Siete una delle peggiori e più avvilenti esperienze che si possano augurare a un insegnante. E se permettete, voglio dirvi un'altra cosa. Allora, vedo subito che aria tira. Infatti, all'uscita, tutti a ruffianarsi. Pac sulle spalle, professore qui, professore lì. Sì, sì, professore. Questi giornali, sta al posto tuo. Oggi ci siamo trasferiti nella casa dei nonni di Roma che sono morti. Beh, ti arrivi mai sul volante, Agatha! Oh, Dio, non mi fanno mai andare più! Il fascismo è stato sconfitto dalla storia! Io vorrei che si esprimesse, anche chi finora non ha parlato. A Montalto tra ragazzi di queste cose proprio non se ne parlava. Ma ci stanno le teste rasate? Eh, i miei cuginetti quando hanno preso il bidocchio alla scuola materna. Cioè che Caterina è diventata la meglio amica della fia di un ministro. Cioè, non so se è proprio un ministro, però si è fatta un sacco di amiche nuove, sì. You were supposed to be here at nine o'clock in this morning. Eh, sei fratello di Daniela? Io sono una sua compagna di classe, mi chiamo Caterina. Hai vinto il culo! Noi che passavano di qui non ho pensato venire a prendere la bambina. L'ho mandata a chiamare, adesso viene in camera con Margherita. Temo quella, aiuto, andiamo! Coraccia Caterina! È veramente troppo sfigata quella ragazza! Noi! Quella è gente privilegiata. Noi per loro siamo un niente. Magometti, per loro! Tu miresi, aspetta! Magometti, per loro! Magometti, per loro! Magometti, per loro!